buona giornata amici da massimo foghetti oggi lunedì 13 dicembre 2021 13 dicembre è un giorno che subito si associa ad una santa particolare santa lucia e oggi vediamo subito la nostra tabella vediamo il volto di santa lucia con la palma del martirio santa lucia era una ragazza di siracusa era nata appunto nella città siciliana da piccola era stata subito educata nella fede cristiana erano i tempi dell'antica roma però un giovane le aveva messo gli occhi addosso e la sua storia si assomiglia in modo particolare a quella di santa maria goretti il giovane invaguito di questa ragazza che purtroppo che secondo la sua sensazione primaria era stata votata a dio si vendicò del suo rifiuto denunciandola al governatore della zona quando capì che il suo rifiuto era dovuto proprio la fede cristiana ebbene santa lucia fu martirizzata fu torturata col fuoco si dice che le furono cavati gli occhi ecco perché patrona della vista e alla fine fu decapitata nel luogo dove riposarono le sue reliquie nelle catacombe fu eretto un grande santuario ancora oggi oggetto di particolare culto santa lucia il giorno più corto che ci sia non è vero ancora il sostizio d'inverno prosegue fino al 21 dicembre comunque le giornate si accorciano in modo particolare il sole a fano sorge alle 7 e 30 e tramonta alle 16 e 31 giornate quindi ancora corte e vediamo le previsioni del tempo oggi un tempo in miglioramento lo vediamo nella tabella anche ieri è stata una bella giornata ci sono ampi spazi soleggiati un po di variabilità sul finire del giorno gelate però al mattino attenzione perché quando il cielo è sereno il terreno gela e gelate sulle vallate le temperature sono in calo due gradi la minima 9 la massima ed ora diamo un'occhiata alle notizie a partire dallo sport oggi è lunedì e sono state giornate abbastanza fortunate per le squadre della nostra provincia vediamo subito il resto del carlino visse con limolese un punto comunque prezioso tentativi molti dei biancorossi palle gol poche purtroppo attacchi spuntati portiere difese attenti i biancorossi in quota playoff in attesa del derby con l'ancona una partita molto importante comunque con limolese il risultato si è concluso 0 a 0 vediamo ora invece la la il commento di banchini era una partita difficile il mister biancorosso dopo il match dovevamo pensare a fare quel saltino di mentalità nel volerci imporre e ci siamo riusciti comunque a metà perché poi il pareggio insomma non è l'ottimo che si voleva realizzare peccato non aver fatto gol nel primo tempo ha concluso banchini vediamo invece il fano calcio fano calcio ha cambiato mentalità anche ha cambiato mentalità e allenatore ebbene la cura catalano ha fatto effetto il fare il risultato con il nereto è stato fano 2 nereto 0 granata dunque corsari fuori casa assegno casolla e ricci tre punti importantissimi in chiave salvezza col nereto il mister le dichiarazioni sono contento ma i meriti vanno ovviamente ai ragazzi e vediamo anche i commenti che appaiono sul corriere adriatico vediamo il commento sulla vis la vis le prova tutte pareggia al benelli contro limolese in fila il quarto risultato utile di fila e resta al settimo posto una classifica dignitosa banchini schiera la diciottesima formazione differente tonso e cannavo hanno le occasioni migliori visto volevamo vincere banchini è soddisfatto della vis peccato non averla sbloccata la partita nella prima mezz'ora gli ingressi di cannavo marcandella e lombardi hanno spostato l'equilibrio in avanti e quindi gli attaccanti si sono fatti valere vediamo ora cosa dice il corriere adriatico per quanto riguarda il fano calcio il fano finalmente respira intitola il giornale casolla e ricci nel secondo tempo stendono il nereto e l'arma risale in classifica sono punti veramente preziosi perché la posizione della squadra granata in classifica era molto molto critica catalano non è merito mio ma va bene così dice il tecnico all'esordio appunto nella guida della squadra un applauso ai ragazzi che hanno saputo combattere chiudiamo le pagine dello sport e ora apriamo quelle della cronaca vediamo il resto del carlino ricci annuncia un rimpasto di giunta il sindaco a gennaio rivedremo la squadra voci sui primi nomi da sostituire li vedremo poi all'interno e si rafforza l'alleanza con i grillini quasi quasi la si ufficializza e poi ancora la sfida di piada marina riapriremo in viale zara si parla del locale chiuso al molo a pesaro e poi ancora il pd si affida a bellucci e l'esito del congresso provinciale l'ex democristiano cresciuto nelle parrocchie un ricorso alla corte europea un giovane si uccise in carcere a villa fastigi illegale accusa andava a frotetto quindi una carenza di vigilanza secondo il legale e poi le due notizie che riguardano lo sport l'alma di fano e la visse di pesaro fano riscatto anereto la cura catalano rende la visse non demorde solo un pari con limola un pari comunque prezioso apriamo il giornale vediamo le iniziative che l'asur l'asur marchi e l'azienda fan nord ha realizzato ieri a pesaro per incrementare le vaccinazioni domande dubbi ma soprattutto vaccini il camper in centro è stato fermato in piazzale colinuccio somministra 66 dose parliamo insieme diventa un'occasione per immunizzarsi qualcuno ha approfittato anche per informarsi l'insegnante laura scalbi dice a me sarebbe scaduto a gennaio ma con la terza dose ora ho il super green pass ma lei mi curerà male perché sono novax dice una persona che non ha il vaccino e si preoccupa se per caso viene riscontrata positiva ovviamente la risposta è no una mattina in piazza con i medici ospedalieri e vediamo che in piazza ieri c'era anche il primario di medicina del san salvatore ma io direi di marche nord perché poi il primario di medicina è a fano il riparto è a fano gabriele frausini ieri mattina in piazzale colinuccio e vediamo qui anche eugenio carlotti che è responsabile della prevenzione insieme a frausini questo è frausini questo è carlotti e in piazzale colinuccio giriamo ancora le pagine e vediamo che si parla di piada marina lo sfratto è il riscatto il locale smantellato al moto al molo vi ricordate con quelle grosse gru che hanno spostato il box risorgerà sempre in zona mare all'angolo tra viale trieste e viale zara l'inaugurazione è prevista intorno a pasqua stefano sarti dichiara io non ci sarò ma ho dato la disponibilità per il nome correlati 5 leoni da tastiera ebbene come l'araba felice questo locale che è stato distrutto ora risorge non più però lungo la banchina del porto dove era insomma un luogo così molto molto frequentato dai pesaresi cambierà posizione e vedremo se riuscirà a raggiungere il livello di clientela che aveva un tempo e qui vediamo invece l'articolo delle dichiarazioni del sindaco di pesaro matteo ricci che annuncia un rimpasto e stringe con i grillini il sindaco è stato presente all'astra per la chiusura dell'assise del partito democratico ritoccare la squadra di giunta e ufficializzare l'alleanza col movimento 5 stelle sono stati i due punti fondamentali del suo intervento e tra gli assessori da sostituire il resto è il Carlino fa il nome di Heidi Morotti della lista Il Faro ed è l'unico assessore part time ovvero Andrea Nobili il titolare dell'urbanistica che ha alle spalle l'appoggio della sezione di Villa Fastigi ma anche tanto lavoro da affrontare Ricci potrebbe non considerare questa scelta del rimpasto un rafforzamento ma un problema in più per lui il PD si affida a Bellucci l'ex DC che viene dalle parrocchie è l'articolo che mette in evidenza il risultato del congresso provinciale il congresso del partito trova unità su un personaggio che iniziò dalla vecchia balena la democrazia cristiana a prodò a Orlando e infine a Prodi ed ecco invece i 40 dell'assemblea comunale del partito del PD di Fano sabato si è organizzata, si è celebrata l'assemblea del PD nel nuovo locale di Gimarra ed ecco i 40 componenti dell'assemblea qui sono elencati tutti, non ve li menziono andateli a leggere sul giornale sono i 40 componenti dell'assemblea che faranno parte appunto di questo organo deliberativo del partito democratico fanese che ha come segretario ora Tommaso della Dora di AIDEM l'area che fa capo a Minardi e che ha prevalso con il 63,65% dei voti su futuro democratico l'area che faceva capo a Cristian Fanesi per loro il 36,35% candidato segretario Riccardo Tonti Bandini alla fine però queste divisioni che hanno contraddistinto un po' il dibattito in tutti i circoli del partito democratico si sono ricomposte ed ora il PD unito si appresta così a conservare il governo della città parcheggi gratis non funzionano era una proposta che il Comune aveva organizzato l'anno scorso nel periodo di Natale per favorire l'accesso al centro storico però si è visto l'anno scorso insomma che non è che ha funzionato molto e quest'anno la cosa non si ripete bocciata dunque l'ipotesi di ripetere l'esperienza nel 2020 in centro a Fano per il commercio serve altro ha dichiarato l'assessore agli eventi ma anche al commercio Etienne Lucarelli e poi vediamo ancora il successo di Candele a Candelara un successo da record dice il giornale questa edizione ha segnato anche la centesima giornata di festa arrivate in totale 16.000 persone da tutta Italia in questo piccolo centro della provincia pesarese che ha ideato una manifestazione dal nulla che ha suggestionato tante tante persone migliaia di persone e di questo ne ha beneficiato anche tutta la provincia perché poi i pullman che giungono a Candelara spaziano un po' in tutti gli altri centri della provincia vicini che hanno delle grandi attrattive per favorire il turismo il sindaco di Monbaroccio chiede l'assemblea di area vasta in modo urgente Emanuele Petrucci sollecita Giuseppe Paolini presidente appunto dell'area vasta a convocarla per il caso del San Salvatore esprimo piena adesione all'appello delle organizzazioni sindacali ha detto il sindaco Petrucci rivolto anche ai sindaci degli altri comuni per arrivare ad un rapido superamento o almeno un miglioramento della grave situazione esistente al San Salvatore ed in particolare al suo pronto soccorso Torniamo un attimo a Fano per evidenziare questo articolo con il fondo celestino questo che riguarda un po' i presepi che ci sono in città e in modo particolare il presepe di San Marco quest'anno tornerà anche il presepe di San Marco all'anno scorso la pandemia ha precluso questo bello spettacolo che si vede a Palazzo Fabri ebbene il presepe di San Marco si rinnova da 21 anni con migliaia di visitatori il Comune ha promesso quest'anno a Don Marco che ha realizzato l'opera una collaborazione per la gestione almeno dell'esterno in quanto all'interno non possono entrare più di 50, credo, persone per evitare gli assembramenti sì, 50 persone alla volta il presepe di San Marco aprirà come sempre il giorno di Natale e rimarrà aperto fino al 6 gennaio seguirà il seguente orario dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 e insomma merita una visita perché lo spettacolo è veramente eccezionale non solo la Natività ma ci sono tantissimi quadri che rappresentano gli episodi della Bibbia dalla creazione fino appunto all'ultimo quadro del Vangelo ebbene, vediamo ora il Corriere Adriatico San Domenico corsa al progetto è il titolo di apertura il Comune si aspetta altri 7 milioni di fondi per il recupero disegni da presentare entro i primi di giugno e poi vediamo la fotonotizia dedicata al Vis Pesaro che non riesce a sfondare contro Limolese ma si contenta di un pareggio e poi le notizie di politica il PD elegge Bellucci a Pesaro i medici Novax non vanno convinti ma fatti ragionare è una dichiarazione questa per quanto riguarda il vaccino mentre a Fano i commercianti su Via Negusanti stanno perdendo i clienti ormai i lavori sono in conclusione per la realizzazione della nuova pista ciclabile ma insomma il problema dei parcheggi rimane vediamo all'interno ecco l'articolo che riguarda San Domenico fondi a San Domenico è già corsa al progetto sei mesi come tempo il Comune deve presentare il piano entro il mese di giugno sul piatto ci sono più di 7 milioni di finanziamenti ministeriali ma occorre presentare il progetto Palazzo San Domenico Palazzo Mazzolari e Palazzo Almerici che è sede dell'Oliveriana il Museo dell'Oliveriana sono i contenitori del centro storico destinatari di finanziamenti per complessivi 20 milioni di euro entrati nella graduatoria ministeriale dedicata ai piani di rigenerazione urbana nel 2020 il Comune di Pesaro ha definito l'acquisto per oltre un milione dalla parte di Palazzo San Domenico di proprietà della fondazione Cassa di Risparmio si tratta della parte del complesso attualmente ingabbiata e che si affaccia su via Giordano Bruno e sulla piazzetta lo vedete qui nella fotografia la Politecnica intanto l'Università di Ancona cerca spazi soprattutto a Pesaro Studi dopo il recupero l'Università sarà ospitata nella San Domenico e dunque un articolo da correlare in modo molto stretto a quello che abbiamo menzionato prima ed ecco qui l'articolo che riguarda il congresso provinciale del Partito Democratico Bellucci dichiara Bellucci il nuovo segretario provinciale io più militante che politico dice in maniera così per schernirsi appunto dell'importanza del suo ruolo l'unità di Pesaro è un modello da seguire il neosegretario strappa applausi sulla sanità e laccia input perché il congresso regionale vada nella stessa direzione ma in questo momento il congresso regionale insomma è in maniera molto molto su posizioni critiche tant'è che anche a livello governativo a livello diciamo statale il PD nazionale insomma lo guarda con particolare attenzione letta in modo particolare non vogliamo convincere i Novax ma spiegare i dati su cui ragionare vaccini i medici Frausini e Carlotti testimonial in piazzale Collenuccio eccoli qui entrambi i Carlotti e Frausini che sono scesi in strada non si fermano alle corsie di ospedale per convincere coloro che ancora non si sono vaccinati ad assumere il vaccino Vallefoglia ah che brutta notizia questa mattina la Vallefoglia ho parlato nei giorni scorsi di una mascotte che si aggirava nel territorio era una volpe una volpe a cui gli ambientalisti avevano detto alle persone non datele da mangiare lasciatela stare fa per conto suo ebbene purtroppo è morta avvelenata l'animale selvatico era diventato una mascotte un ospite fisso a cena dell'agriturismo a Pian del Molino ebbene è stata ritrovata nel bosco uccisa dai bocconi che i cavatori senza scrupoli lasciano per i cani da tartufo pensate che cattiveria che è stata fatta e poi a Urbino liberato dopo aver aggredito i militari il sindaco una giustizia da vergogna l'uomo era stato arrestato a Petriano il post di Fabrizioli una normalità che mi fa scandalizzare che cosa è accaduto ebbene ha tentato di colpire i carabinieri con un estintore poi li ha minacciati e infine ha cercato di nascondere una dose di cocaina nel suo garage 24 ore dopo essere stato arrestato è tornato in libertà patteggiando 5 mesi e 10 giorni con pena sospesa insomma veramente tutto il lavoro di inchieste di appostamenti insomma delle forze dell'ordine si vanifica perché davanti al giudice poi i coloro che vengono arrestati vengono rimessi in libertà Fano eccoli i contestatori via Negusanti tutto alla rovescia senza parcheggi perdiamo i clienti bella ma poco funzionale la nuova ristrutturazione della via i negozianti e bastava fare un'unica ciclo pedonale i lavori sono troppo lunghi e vediamo qui gli operatori della via che hanno perso i clienti ormai i lavori si stanno concludendo almeno nella parte che da Viale Gramsci va via a Palazzi però insomma l'assenza dei parcheggi si fa sentire e tutti i negozi gli alimentari il tabaccaio il parrucchiere stanno perdendo i clienti niente asfalti tombaccia dimenticata strada di mezzo e camminate pericolose recentemente l'assessore ai lavori pubblici ha annunciato l'elenco delle vie che verranno ribitumate nel corso di questo inverno primavera perché poi i lavori vengono fatti nei primi mesi caldi del 2022 però tombaccia non c'è ed ecco perché c'è la protesta dei residenti l'ex consigliere comunale Bellucci appena piove il fossato tracima e allaga la zona insomma ci sono diversi problemi a Gimarra e qui vediamo appunto il fossato che viene indicato da Bellucci come un problema da risolvere e ora ci portiamo un po' nell'entroterra Catria fulmine e blackout tutto riaperto in 24 ore è tornato a splendere il sole nel Catria ieri dopo il blackout del giorno precedente infatti hanno riaperto gli impianti una giornata da incubo però quella che è stata trascorsa quella di sabato quando un fulmine ha colpito la cabina di media tensione nella stazione di Monte causando purtroppo diversi danni infatti per quasi 24 ore ininterrottamente tecnici e gestori sono stati al lavoro in condizioni meteo piuttosto proibitive per risolvere le tante problematiche sono saltati i fusibili le schede i neon e tanto altro insomma c'è stato molto molto da fare vediamo ora la notizia di Senigallia frontale con un'auto sulla strada killer si parla di un incidente stradale che purtroppo ha funestato il weekend muore dopo un volo shock dallo scooter l'incidente si è verificato ieri pomeriggio vicino al cimitero la vittima è un senigallese si tratta di Massimo Panni di 63 anni e qui vediamo nelle fotografie il luogo dove ieri pomeriggio è venuto l'incidente mortale lungo la Corinaldese vicino all'area del cimitero nel riquadro vediamo la vittima Massimo Panni di 63 anni e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 vi auguro una buonissima giornata a risentirci a